La Sabri è incinta La Sabri e Pika diventeranno genitori La pagnotta è nel forno Quanto ci andrà più o meno? 200 giorni Ciao scappati di casa, io sono Fabrizio e Valerio è il mio cognome Benvenuti in questo nuovo, nuovissimo appuntamento di TGTube Il telegiornale più shock del web Dedicato al fantastico, magico mondo di YouTube La Sabri è incinta La Sabri e Pika diventeranno genitori È stato fatto un annuncio shock Sarà vero? Sarà falso? O sarà che è una notizia bellissima? Prima di iniziare però come sempre Vi ricordo se ancora non l'avete fatto Di iscrivervi al mio canale Qui sotto trovate un tastino con scritto iscriviti E di fianco c'è anche una campanellina Cliccate anche quella per attivare tutte Dico tutte, le notifiche relative ai video che pubblico Tutti i giorni ho quasi qui sul mio canale Così di rimanere sempre aggiornati Sul gossip, sul trash Ed ovviamente anche sul fantastico, magico mondo di YouTube Vi ricordo anche di seguirmi su Instagram Dove mi trovate come Fabrizio Valerio Ed ovviamente anche su TikTok Dove sono sempre Fabrizio Valerio Ah e ricorda? Sì proprio, tu che stai guardando questo video Cos'è che ti devi mettere se sei in mezzo a un sacco di gente? Ti devi mettere la mascherina, punto! Ed eccoci qua ragazzi Finalmente tornati con una nuova, nuovissima puntata di TG Tube Oggi ragazzi una puntata super super shock Ma non perché parleremo di dissing, di litigate e di polemiche Oggi parleremo di cose belle Perché ogni tanto ci vuole anche una notizia positiva, una notizia bella E torneremo a parlare proprio di lei Di una YouTuber super famosa, super apprezzata, super amata Che è nel cuore di tutti quanti noi Parliamo infatti della Sabri E parleremo ovviamente anche di Pica Avete letto molto molto bene il titolo di questo video Oggi parleremo anche del suo matrimonio Perché insomma dopo la proposta di matrimonio Che è stata fatta quasi due anni fa Oggi ci sono delle novità Ma non è tutto ovviamente Perché come avete letto nel titolo di questo video E no, non è un titolo clickbait La Sabri è in dolce attesa La Sabri aspetta un bambino Oh mio Dio, sono super emozionated Questa infatti è la notizia dell'ultimo minuto Proprio ieri io sto registrando questo video ovviamente A pochissime ore di distanza dall'annuncio ufficiale Ma ieri c'è stato un annuncio super super shock Fatto proprio sui social ed anche qui su YouTube Cosa succede? Beh, la Sabri svela a tutti quanti noi La verità è in dolce attesa È incinta e aspetta il suo primo figlio In questi mesi ovviamente la Sabri e Pica Hanno raccontato gioie e dolori Hanno raccontato cose positive e negative Riguardanti il fatto di diventare genitori Come ben sappiamo La Sabri ha pubblicato anche dei video Dei TikTok Insomma ha pubblicato tante cose Che parlavano di un problema di fertilità Per questo motivo infatti in questi mesi Hanno raccontato veramente a cuore aperto I problemi che ci possono essere Mentre si cerca di avere un figlio Loro li hanno avuti Ma allo stesso tempo Hanno fatto un percorso bellissimo E molto delicato Molto intimo Che è appunto quello Della fecondazione assistita Fortunatamente oggi siamo qui Per parlare appunto Di un epilogo positivo Perché dopo tanto tempo Dopo tanti mesi passati Ad aspettare un positivo Lì su un test di gravidanza Finalmente ci siamo Finalmente siamo arrivati Ad un punto di svolta Perché sì Il percorso è stato lungo Ma ne è valsa la pena Ed il nostro racconto Parte proprio qualche giorno fa Nel momento in cui Su Instagram La Sabri ha deciso di rispondere Ad alcune domande e curiosità Da parte dei fan Una di queste infatti diceva Quando sarai incinta? Non vedo l'ora E lei risponde A me lo dici? Spero super presto Immagino già In quanti festeggeremo Ormai fate il tifo per noi Da tantissimo tempo E in tantissimi Sarai il bambino Più fortunato del mondo Ad avere tanti zii Bravi come voi Perché sì In questi mesi Tutti quanti noi Siamo rimasti lì No? Attaccati alla prima notizia Che ci dava La Sabri Che ci dava anche Pica Sperando che appunto Questi due ragazzi giovani Potessero dare inizio Alla loro famiglia Con un figlio Ed oggi Parliamo proprio di questo Perché sto per parlarvi Forse di una delle pagine Di YouTube Italia Più belle di questi ultimi anni Ad un certo punto infatti Nel canale Naz Il canale di coppia Di Pica e la Sabri Viene pubblicato Un video Un video che come titolo Ha tre puntini Di sospensione In questo video Vediamo la Sabri e Pica Intenti ad impastare Una pagnotta di panna E ricordatevi Molto bene Questo termine Pagnotta Proprio perché È una simbologia Un simbolismo Che riguarda proprio Il figlio che avranno Ad un certo punto infatti Pica chiede Ma quanto ci vorrà Cioè è stato infornato Ma adesso Quanto dobbiamo aspettare E la Sabri risponde Circa 200 giorni 200 giorni Equivalgono a più o meno 6 mesi E infatti Viene mostrata innanzitutto Una anzi Due scarpette Con all'interno Che cosa secondo voi? Beh un test Di gravidanza Che ovviamente È positivo E poi viene anche mostrata Una sorta di lavagnetta In cui c'è scritto Ottobre 2022 Mamma e papà Ti aspettano Quindi è ufficiale Ragazzi La Sabri è incinta È in dolce attesa E lei e Pica Presto Diventeranno genitori Ed io non vi nego Che mentre stavo guardando Questo video Breve ma intenso Credo sia durato All'incirca 50 secondi Una lacrimuccia Mi è scesa Ero lì A guardare Questo video In realtà All'inizio Non stavo capendo Poi ho iniziato A leggere i commenti Ho iniziato a guardare Bene il video Ho detto Non ci posso credere È successo veramente Proprio perché In questi ultimi mesi Abbiamo vissuto Con questa coppia Con la Sabri e Pica Momenti difficili Momenti felici Gioie e dolori Ve lo dicevo anche prima Di tutto Quello che Si può raccontare Loro lo hanno fatto Hanno raccontato Un percorso Che veramente È molto importante Ma allo stesso tempo Forse è difficile da vivere La fecondazione assistita Non è Una passeggiata Non sempre Si hanno i risultati In un breve tempo Questo invece È successo Per quanto riguarda La Sabri e Pica Finalmente diventeranno Genitori E quando io dico Che mi sono emozionato Intendo dire Veramente Che guardando il video Ho detto Che bello Una famiglia Che prende vita Dei ragazzi Che sono contenti Dei genitori Che vogliono essere genitori Perché spesso Vediamo persone Che mettono al mondo I figli Così Abbastanza a caso Qua invece si vede C'è stato un percorso Sono due persone Che veramente Vogliono un figlio E ci stanno riuscendo E veramente Tanti Tantissimi auguri Alla Sabri e Pica Proprio perché Penso che questo Sia uno dei traguardi Più belli Che la vita Ti possa mettere davanti No? Diventare mamma Diventare papà Diventare genitori Di una piccola creatura Che È dentro la tua pancia Ma che già ami Immensamente Quindi veramente Tantissimi auguri Ai nostri futuri Non solo sposi Ma anche genitori E adesso ragazzi Ovviamente C'è un mondo Da raccontare Il racconto della Sabri Infatti non finisce qui Anzi Qualcuno si è chiesto Ma una reaction Di quando lei ha scoperto Di essere incinta Bene ragazzi La Sabri ha condiviso Con tutti quanti noi Un video Molto toccante Il video Nel quale Ci mostra Il primo Primissimo Test di gravidanza Questo clear blue Che dice Incinta Lei era in bagno E ha fatto il video Proprio perché Non ci poteva credere Forse questa è stata La notizia Più bella Della sua vita E proprio nella descrizione Di questo video La Sabri ha scritto L'emozione più grande Che potessi provare Ti aspetto Cuore mio Non hai idea Da quanto tempo Io ti stia Aspettando E appunto Noi leggiamo Su questo bellissimo Test di gravidanza Incinta Quindi ragazzi Andiamo avanti Con il nostro racconto Perché tante E tante Sono le emozioni Che stiamo per vivere Infatti Il protagonista Di questo racconto Torna ad essere Quella famosa Lavagnetta Che dice Ottobre 2022 Ti aspettiamo Mamma E papà E appunto La Sabri scrive Da quanto Ti desideravamo Ancora forse Non lo sai Ma siamo sicuri Che presto Te ne accorgerai Mamma Papà E tutti gli zii D'Italia Ti aspettano L'emozione Indescrivibile Ah Mamma aggiunge Anche che se la notte La fai dormire Ti ringrazia tanto Ti aspettiamo L'ospetto Del nostro cuore Ottobre Non è lontano Grazie per averci scelti Quindi insomma ragazzi Un bellissimo post Che celebra Questo annuncio Della dolce attesa Ma Non è tutto Perché adesso Andiamo avanti E lo facciamo Proprio Parlando di quelle Che sono state Le stories Pubblicate Dalla Sabri Perché ad un certo punto Ve lo dicevo C'è stato questo Bellissimo video In cui si parla Di questa Pagnotella E lei Pubblica appunto Mi pare di ricordare Esatto Una pagnotta di pane In un forno E scrive Pagnotta Nel forno E poi dice L'emozione più grande Della mia vita E poi arriviamo Ad una foto Che mi ha molto colpito No E qua poi Sono ritornate Un po' le lacrime Lo guardavo proprio Oggi pomeriggio Mentre Stavo insomma Cercando di capire Come fare Questo video Ad un certo punto La Sabri Pubblica Una foto Una foto Che insomma A me Ha toccato Veramente tanto Perché Riguarda Una bambina Ele La sua Sorellina acquisita Lei dice anche Che è come se fosse Un po' sua figlia No? Riletto anche oggi Un post che aveva dedicato A questa bambina Che ovviamente Non c'è più E lei Mostrando appunto Questi Questi test di gravidanza Scrive Grazie Ele Ci abbracceremo Molto presto Proprio perché Insomma Era molto legata A questa bambina Ed io Voglio pensare In maniera Romantica Che Non lo so Se sarà una bambina Chissà Magari la Sabri Le darà proprio Il suo nome Io Ci spero Proprio perché Sarebbe Veramente una Bellissima cosa Ma i rimandi Ad Ele Non finiscono Qui Qualcuno le dice Pensi sia un segno Di Ele E lei risponde 100% È lei Il nostro concepimento Due settimane Dalla sua perdita Ha saltato sicuramente Un po' di fila Ma se lo meritava Ti aspettiamo Piccolo O insomma Piccola E Non lo so ragazzi Io Continuo a dire Che spero tanto Che se sarà una bambina Le daranno Il nome di Di Ele Perché Se lo merita Adesso però Andiamo avanti E passiamo A insomma Tutte le curiosità Che le persone Che seguono la Sabri Hanno E partiamo proprio Da Da quanto tempo È incinta La Sabri scrive Siamo già nel terzo mese Ecco perché Mancano solo 200 giorni Insomma Si vede la mia gravidanza Terzo mese Al momento Il bambino O comunque la bambina È grande Quanto una prugna Quindi veramente 3 centimetri E pesa quanto 0,01 kg Quindi veramente Pochissimo Ora Avete capito Perché da due mesi Sto sempre male La ranocchia Insomma Mi sta facendo Impazzire Ma non è tutto Perché poi Ad un certo punto La Sabri svela Una cosa abbastanza divertente Cioè Chi si è reso conto Della sua gravidanza Per primo E voi non ci crederete mai Ma sono stati proprio I gatti I suoi gatti E lei dice questo E comunque La cosa più carina Di tutte È che i gatti Lo hanno capito subito Ancora prima di noi Ricordate che Non mi mollavano E vivevano sulla mia pancia Tanto che abbiamo dovuto Trovare una soluzione Per farmi dormire E gogo da due mesi Mi fa i bisogni Nella mia camera Giusto per far sentire Al fratellino Sorellina Chi comanda Saranno lunghi mesi Ma sarà tutto Bellissimo E poi La Sabri vuole lanciare anche Un messaggio D'affetto E di speranza E di vicinanza Soprattutto A tutte quelle coppie Che stanno cercando Di rimanere Insomma Incinta In questo caso Stanno cercando Di diventare Genitori Ma magari ancora Non ce l'hanno fatta Lei dice proprio questo A tutte quelle coppie Che da tempo Lottano Per quel dannato Positivo Vi mando un fortissimo Abbraccio Con la promessa Che arriverà Anche a voi Il mio pensiero Di oggi Va a voi Perché so Quello che state passando E ne uscirete Vincitori Bisogna solo Avere pazienza E non smettere Mai Di crederci Si è già genitori Già da quando Si inizia A desiderarlo E questo penso Che sia Un bellissimo messaggio Ed è veramente Veramente Una sana verità Perché Una persona diventa genitore Nel momento in cui Desidera esserlo E Non c'è dubbio Ma le curiosità Dei fan Continuano E c'è infatti Chi le chiede Ma perché Chiami Rospo Insomma Il tuo prossimo O la tua prossima Figlia Figlio E lei risponde Perché quando Lo abbiamo scoperto Era grande come un girino Da lì è nato Il suo soprannome Ci sono stati Tanti indizi In questi mesi Che molti hanno colto Ma tantissimi altri no Forza Rospetto Del mio cuore Cresci Bene Ma andiamo avanti Perché poi C'è qualcuno che dice Ti prego Dimmi che hai il video Della vostra relazione Appena lo avete scoperto E lei dice No è stato Tutto troppo strano Così impossibile per me Tanto che non ho voluto Fare il clear blue Anche quando ho visto Non farci Non farci insospettire E lei risponde In realtà adesso Potete farci caso Ma non vi ho mai mentito Sì Davo indizi strani Ma è dal giorno 1 Che vi dico Che sono super positiva Beh Lo ero davvero Ovvio Non ve l'ho detto palesemente Ma nelle mie risposte C'era sempre Una verità velata E' vero Il mio percorso E' stato interrotto E' vero Che ho fatto tutte Quelle visite Ed esami importanti E' vero Che sono stata male Ed è vero Che sono stata in ospedale Per delle perdite E' stato tutto vero Solo dovevate leggere bene Tra le righe Diciamo che le mamme Lo avevano capito Praticamente tutte Anche dal mio viso Che è molto Molto diverso Da un paio di mesi Nei prossimi giorni Avremo modo di raccontarvi Tutto per bene Anche Pica Ha messo un box E sono sicura di vedere Un po' di sue risposte Sarai il più bel papà Del mondo Poi qualcuno chiede Ma tu già lo sapevi Perché dice Giorni incinta 74 E lei risponde Noi lo sappiamo Da ormai due mesi Una gravidanza Dura 40 settimane 10 mesi E non 9 E noi siamo già A metà dell'undicesima Nel terzo mese Insomma ragazzi Una notizia Che veramente Ci ha Non so come dire Ma ci ha riempito Di gioia Il cuore Io credo di averlo scritto Anche sotto i video Della Sabri Sono più Più che contento Di questa bellissima notizia Del fatto che diventino Genitori Proprio perché Lo desideravano talmente Tanto Che finalmente Questo sogno È diventato realtà Ma adesso andiamo avanti Quindi Passiamo Da questa bellissima notizia A comunque Un'altra bellissima notizia Ma che è appunto Il matrimonio Che tutti quanti Noi stiamo aspettando Proprio perché Vi ricordo Che quasi Due anni fa Cioè sembra ieri In realtà Ma quasi due anni fa Pica aveva fatto Questa bellissima Proposta di matrimonio Vi ricordate Quel famosissimo Posto In Toscana Che si chiama Paperino Questo bellissimo Disneyland Un po' Creato così In maniera Fai da te Mettiamola così No? Ecco Lì Pica aveva chiesto Appunto Alla Sabri Di sposarlo Lei ha risposto Di sì Ma questo matrimonio Quando ci sarà? Beh Andiamo per gradi Perché in questi ultimi giorni La Sabri ha risposto A tante Tantissime Domande E curiosità Da parte dei suoi fan Tutto parte Da questa domanda Che dice Idea abito matrimonio Ne hai già in mente uno? E lei risponde Bisogna vedere Per cosa riusciamo a fare La nostra idea iniziale Era di andare Con solo i testimoni A sposarci ai Caraibi Ma poi il covid Ha cambiato tutti i nostri piani Ma vedendo che ora Piano piano Stanno riaprendo le cose Stiamo riprendendo in mano la cosa Vorremmo sposarci in spiaggia Per fine agosto Inizio settembre Qualcuno di voi Ha fatto una cosa simile? Dove vi hanno sposato? In che stato? Noi non siamo da chiesa Ma andiamo avanti Poi qualcuno Ah scusatemi Questa è una Una domanda molto interessante Che non c'entra con il matrimonio Ma che c'entra invece Con il battesimare I propri figli Vorresti battesima Battezzare forse Vabbè Il tuo futuro figlio? Penso che l'unica forma corretta Sia battezzare Ma non vorrei sbagliarmi Comunque No amore Quando avremo un figlio Non lo battezzeremo Studierà e si informerà Su tutte le religioni E sceglierà Se lo vorrà A quale appartenere Se fosse Si battezzerà Quando avrà scelto Lei o lui Da più grande Non vedo perché Dovremmo imporre Una religione Noi Ad un'altra persona Ma andiamo avanti Perché secondo me Qualcuno in queste ultime settimane Ha un po' capito Che forse la Sabri Potesse essere incinta Perché Le chiedono Quanto saresti contenta Se fossi incinta Il giorno del matrimonio? E lei Vi immaginate Quanto sarebbe figo? Ma contando Che ci sposiamo in giugno Una cosa così La vedo matematicamente Impossibile Quindi Sì Lei ovviamente È già incinta Forse a giugno Avrà un inizio Di pancia Credo Però insomma Staremo a vedere Ma andiamo avanti Perché Poi qualcuno dice Ma come farà Ad essere legale Il matrimonio Qui Se ti sposi all'estero Perché ricordiamolo Che la Sabri Si sposerà Alle isole Mauritius In un posto bellissimo Super arcobaleno Insomma Poi ragazzi Le Mauritius Cioè ogni volta Che io vedo Qualche villaggio Resort E cose In quelle isole Dico Oh mio Dio Bellissimo Cioè non oso immaginare Che paradiso Sia Ma Lei risponde appunto Per quanto riguarda La legalità Del matrimonio Se ti sposi all'estero Ci siamo affidati Ad un'agenzia Apposta Quando torneremo Basterà solo Registrarlo in Italia Ed il gioco È fatto E poi qualcuno dice Ma quante persone Hai invitato Al tuo matrimonio Che lei dice Nessun invitato Solo noi E i testimoni È una cosa Piuttosto intima Lo dico da sempre Che avrei fatto Una cosa così Fa ridere che ha messo invece Una foto Con un sacco di sedie E di cose Insomma Bellissimo Comunque andiamo avanti Qualcuno poi dice Ma come mai Come mai inviti Così poche persone Non inviti nessuno Cioè Che sta succede E lei risponde Semplice semplice Senza che nessuno Si offenda I matrimoni Sono una palla Una roba noiosissima Ore ed ore Al ristorante Con gente che magari Nemmeno conosci O addirittura Qualcuno ti sta anche Antipatico Per non parlare Dei costi assurdi E molto spesso Inutili E qua Sottoscrivo Dovrebbero solo Ringraziarmi I miei parenti Che glielo evito Noi Non siamo mai stati Dell'idea del matrimonio È una cosa Che non serve Così facciamo Una cosa Molto intima E semplice Mischiato Ad una vacanza Ecco tutto Ed ovviamente Arrivati a questo punto Ci chiediamo Ma chi sono sti testimoni Bene ragazzi C'è una risposta Anche a questo Perché Dice I miei sono codeste persone Ovviamente Andre Non mi faccio testimone Da sola Bellissimo Quindi ovviamente Sua sorella E Andre Ma Ma C'è di più Perché mi sembra Che in questi ultimi giorni Si è arrivato un pacco Questo l'ho visto Da Vendo Influencer Che ha pubblicato una storia Dove appunto C'è un pacco di Asos E beh La Sabri dice Abito arrivato Sarà forse il suo abito Non lo so ragazzi Staremo a vedere anche lì Fatto sta comunque che Insomma Lo sappiamo Ah non vi ho detto la data Scusatemi Ma che stupido Cioè continuo a dire Sì questo matrimonio Si farà Blablabla E non vi dico la data La data prevista È il 6 giugno Alle isole Mauritius Ovviamente noi cercheremo Di monitorare tutto quanto Speriamo che ci sia qualche Paparazzo Forse no Perché si devono godere Un attimo La situa E soprattutto La cerimonia O comunque Sta benedetta vacanza Ma insomma Parleremo anche di questo Se ci sarà modo Nelle prossime settimane Anzi nei prossimi mesi Detto questo Comunque vi lascio Con un bellissimo video Che ha pubblicato La Sabri Dove ci fa vedere Questa bellissima pancia La vedete? Questa iniziale pancetta Che insomma Già contiene Un piccolo rospetto Come dice lei Insomma ragazzi Lasciamoci con queste Bellissime immagini Perché a parte i drammi A parte i dissing È bello anche a volte Parlare di queste Bellissime notizie Soprattutto di una Famiglia Che sta prendendo forma Detto questo Il video può finire qui E spero tanto Che vi sia piaciuto Adesso fatemi sapere voi Qui sotto Nei commenti Cosa ne pensate Ok? Ok Seguitemi su tutti I miei social Che vi lascio qui Sotto nell'info box E niente Io Mark Vi salutiamo E noi ci vediamo In un prossimo video Vero Mark? Vai Saluta Mark Vabbè ragazzi Anche oggi Noi ci abbiamo provato Ciao Ciao